Diamo ora la parola a Tiziano Pesce, Presidente nazionale del WISP. Buonasera a tutti e a tutti, partecipanti a questo importante diciottesimo congresso nazionale. 65 anni di storia straordinaria e anche i congressi diventano maggiorenni. Un ringraziamento a tutte le delegate, a tutti i delegati, alla Presidenza del Congresso, agli invitati, alle reti sociali e alle istituzioni che abbiamo ascoltato sino a questo momento. Grazie a Daniele. Grazie, Daniele, per l'invito, per il tuo impegno, i risultati raggiunti, per la tua appassionata relazione e le emozioni che ci hai donato in questo lungo pomeriggio. Grazie alla Presidente onoraria Luciana Castellina, grazie Luciana, un ringraziamento sentito a tutto il gruppo dirigente, all'intera rete associativa Arci, da me e da tutta il WISP. Grazie per quello che fate, per quello che fate ogni giorno e per come lo fate. Un abbraccio forte all'infaticabile Adelmo Cervi, presente in sala. Grazie, compagno Adelmo. Un pensiero anche da parte mia ai tanti associati e dirigenti, alle loro famiglie, associati e dirigenti che hanno perso la vita a causa del Covid in questi tremendi anni. In un passaggio del vostro ricco documento congressuale leggiamo «Abbiamo una bussola, i valori e la cultura che ci hanno consegnato la nostra storia associativa, il movimento operaio, contadino, popolare, l'antifascismo alla resistenza, le sinistri, i movimenti pacifisti, non violenti, femministi, ecologisti, studenteschi, antirazzisti, alter mondialisti, antimafia per i diritti civili e i dettati che la Costituzione e il diritto internazionale sanciscono come leggi inderogabili». In un mondo di guerra diciamo pace. Nella diseguaglianza crescente noi ci battiamo per l'uguaglianza. Allo sfruttamento opponiamo la giustizia sociale, all'isolamento la socialità. E il documento va avanti. Io credo che in maniera molto efficace, ecco, abbiate fissato una parte considerevole, quindi già in questo documento precongressuale, dell'impegno dell'Arci, del vostro impegno. Ma permettetemi di dirla così, dell'impegno dell'Arci e dell'ISP, due fra i più grandi enti di terzo settore del Paese e del nostro continente. Lo possiamo affermare, credo, senza timore di essere smentiti. Un manifesto, quasi, di due associazioni progressiste che nascono nel secondo dopoguerra, dai valori della resistenza, dai sacrifici di giovani donne e giovani uomini nella lotta di liberazione, dal fronte della gioventù e, andando più indietro, dal mutualismo avviato nel secolo precedente, come ha ricordato Daniele oggi. Due associazioni del fare che sono cresciute a braccetto con la Costituzione italiana, credo senza retorica e con coerenza, attraversando e influenzando il sistema culturale, ricreativo, sportivo, sociale e politico del Paese, che hanno percorso un bel pezzo di strada insieme e la continuano come corpi intermedi federati che, giorno dopo giorno, rafforzano il proprio impegno per affermare, per consolidare la propria soggettività associativa al servizio del bene comune, dell'interesse generale. Si mettono in discussione, ci mettiamo in discussione ogni giorno, si autoriformano, tenendo al centro l'etica della responsabilità, la trasparenza, la rendicontabilità, per contribuire ad affermare diritti, promuovere giustizia sociale, legalità, inclusione, coesione, contrastare le disuguaglianze, promuovere partecipazione democratica. In un momento, tra l'altro, come abbiamo ricordato più volte oggi di profonda disaffezione dei cittadini dalla politica e di tremendo astensionismo al voto. Una bussola, quindi, dicevamo, dicevate, che ci hanno consegnato sicuramente i nostri padri fondatori, alcuni comuni, tra cui quello straordinario uomo di Arrigo Diodati, il partigiano Franco, che, diciannovenne, unico sopravvissuta all'eccidio nazifascista di Cravasco, nel comune di Campomorone, nell'immediato entroterra della mia Genova, del 23 marzo 1945, dedicò la sua vita al servizio dei valori di libertà e di pace, da trasmettere attraverso l'impegno associativo. Nell'estate del 1947 organizzò il Campeggio internazionale della gioventù di Cogoleto, esperienza che racconta alcuni dei valori fondanti che contribuirono alla nascita dell'ISP, un anno dopo, nel 1948, amicizia internazionale tra i giovani di tanti paesi europei, volontariato, amore per la libertà, per il viaggio, per un bel rapporto con la natura e con l'avventura. Arrigo Franco Diodati aveva creato l'Associazione Campeggiatori Escursionisti Turisti, che nel 1950 si fuse con l'ISP, diventando una delle componenti fondanti dello sport popolare. Il villaggio della gioventù di Cogoleto ebbe un grande successo, andò avanti diversi anni. Ci fu anche un'estate in cui furono ospitati dei giovani pionieri. La sera, attorno al fuoco, si radunavano ad ascoltare sballorditi le prime strane favole e non favole di un giovanissimo Gianni Rodari. Chi fu e cosa rappresentò, cosa ha rappresentato per l'Arci, Franco Diodati, non posso certo raccontarlo io a voi. Caspita, allora, che metafora azzeccata quella della bussola. Una bussola che diventa testimone, arrivata a noi attraverso altri compagni e compagne straordinarie. Grazie ancora, Luciana. E non possiamo che ricordare con profonda riconoscenza ed affetto, come abbiamo fatto più volte in questo pomeriggio Tom, Tom Benetollo, e Gian Mario Missaglia, il nostro Gian Mario, che un tremendo destino ci ha strappato entrambi troppo presto, ma i cui insegnamenti ed esempi restano e resteranno per noi sempre stella polare, tra storia, memoria, presente e futuro. Non posso allora non pensare alle coerienteering di Mix, di Gian Mario e alle sue suggestioni contenute in Green Sport. Un altro sport è possibile per uno sport più pulito e umano. Ai noi, così distante dai mondiali di calcio in pieno svolgimento in Qatar, su cui ci siamo espressi pubblicamente pochi giorni fa, proprio insieme, Arci e Wisp, con il nostro comunicato congiunto, senza diritti, non chiamatolo gioco, e neppure sport. Intanto, sempre la dura attualità ci dice che gli effetti della pandemia, dell'inflazione continuano ad aumentare, le già profonde disuguaglianze in essere, la disoccupazione, le povertà assolute e relative, colpendo soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione, in particolare le donne, i giovani, gli anziani, gli stranieri, le persone sole, le persone con fragilità e disabilità. Un divario socio-economico aggravato dalla crisi sanitaria e dagli effetti diretti e speculativi del tremendo conflitto bellico in Ucraina, che non mantiene certo indenni, anzi, i nostri circoli, le associazioni di base, gli impianti sportivi e ricreativi di prossimità, le nostre strutture nazionali e i nostri comitati sul territorio, ancora troppo poco sostenuti. Senza dimenticare, appunto, come lo abbiamo ricordato più volte oggi, la spada di Damocle dell'IVA, che ancora pende sulla testa di tutti gli enti non a scopo di lucro che non svolgono attività commerciale. Tutto questo in una fase storica contraddistinta da riforme legislative, a partire da quella del terzo settore, di cui siamo stati anche promotori e di cui abbiamo voluto cogliere opportunità e relativi oneri, ma che fatica ancora, nonostante anche il grande impegno profuso dalla Direzione Generale del terzo settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rapporto con il Forum del terzo settore, a raggiungere una completa messa a terra, una completa armonizzazione con la riforma del sistema sportivo. Tutto ciò danno soprattutto delle realtà associative più piccole, basate completamente o quasi sul volontariato dei propri dirigenti ed associati. Arrisco allora ancora una volta i bisogni e le necessità delle cittadine e dei cittadini più fragili, le attività di solidarietà, la socialità e più complessivamente la coesione e la tenuta sociale delle nostre comunità. Il legislatore metta allora la giusta attenzione, ma per davvero, dal Governo centrale sino alla più piccola amministrazione locale si investa convintamente nei nuovi istituti dell'amministrazione condivisa. Si riconosca sempre di più il valore di reti associative come le nostre, vere, davvero presenti e capillarmente sull'intero territorio nazionale. Si lavori insieme per una vera sussidiarietà, per un nuovo modello sociale che abbia davvero al centro le persone. Il nostro tessuto associativo di base, che non finiremo mai di ringraziare, rappresenta un capitale sociale, un ambiente educativo e formativo per tutte le età della vita, in grado di sensibilizzare e far crescere una diversa cultura basata sulla partecipazione e il rispetto, sulle pari opportunità, sul valore del servizio civile, sulla promozione della salute per far crescere una società più sostenibile, attenta e sensibile, in grado di promuovere e tutelare i diritti civili e umani, contrastare ogni forma di violenza e di discriminazione, contribuire al cambiamento, parte attiva anche di una concreta transizione ecologica. Fatemi dire anche questo. Ho saputo della candidatura unica Presidenza nazionale di Walter Massa, responsabile nazionale organizzazione. A Walter mi lega non soltanto l'essere genovesi, ma soprattutto da molti anni ormai una fraterna amicizia, cresciuta tra i nostri impegni associativi sul territorio, attraverso le Presidenze di Arci e Wispliguria, nell'impegno importante all'interno del Forum del Terzo Settore e nel rapporto con le istituzioni. Walter, bella persona, ragazzo, uomo caparbio, grande sportivo, ottima testa e ottime gambe. Un abbraccio stretto stretto, Walter, e un grande in bocca al lupo a te e a tutti noi. Vado velocemente a concludere, ringraziandovi ancora una volta per l'opportunità di essere qua oggi con voi, convinto che i vostri lavori sapranno anche indicare obiettivi comuni e strade da intraprendere e condividere nei percorsi che già ci vedono insieme sul territorio, nell'esperienza poi delle rappresentanze del Forum del Terzo Settore, in Fondazione con il Sud, ai tavoli del patto di consultazione e confronto promosso dalla CGL o in altri ambiti in cui già agiamo o ci potremo ancora incontrare, soprattutto nella nostra federazione. Grazie, Daniele, per aver fatto oggi nella tua relazione dei passaggi molto importanti, nella nostra federazione in cui, consapevoli dei nuovi e complessi compiti che ci sono assegnati, poter rilanciare appunto insieme un rinnovato patto associativo, un'alleanza, io credo anche di soggetto politico e pedagogico, per rispondere sempre meglio ai sempre maggiori bisogni delle nostre comunità, anche sul terreno dei servizi per il bene comune del nostro Paese e non solo, rendendo sempre più riconoscibile la nostra identità di organizzazioni di cittadinanza attiva per l'affermazione di una società più solidale, più giusta ed equa per tutte e per tutti. Lungi da me, da noi, voler essere autoreferenziali e men che meno presuntuosi, ma la storia di questo Paese, le emergenze di questi ultimi anni, le testimonianze anche delle istituzioni oggi presenti al vostro congresso, al nostro congresso, fatemela dire così, dicono che c'è un dannato bisogno di noi, c'è un dannato bisogno di Arci. Affermiamolo, affermatolo con orgoglio. Buon congresso a tutte e a tutti. Grazie ancora. Grazie a Tiziano Pesce.